Bene, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del vostro webmate e sapete che ultimamente ho parlato spesso di dropshipping ho fatto una playlist intera sul canale dedicata a questo e ogni tanto sforno un nuovo video appunto su questo argomento e l'argomento di oggi, oltre a essere su questo argomento è anche sulla tematica che spaventa tante persone che iniziano oggi nel mondo del dropshipping ossia le tempistiche, i tempi di spedizione ho parlato diverse volte anche di Amazon che sta letteralmente buttando fuori mercato qualsiasi piccolo grande competitor che sia ho nell'ultimo mio video parlato anche della Nike che ha deciso di smettere di vendere su Amazon proprio perché non aveva più il controllo diciamo del processo di vendita e anche dell'esperienza di vendita vera e propria quindi il 50% delle vendite oggi anche negli Stati Uniti viene fatta su Amazon quindi il restante 50% si suppone venga fatto su altre piattaforme e siti però ovviamente considerate che negli Stati Uniti ci sono milioni di utenti abbonati Prime che costa molto di più che in Europa costa circa 120 dollari all'anno l'abbonamento ad Amazon Prime che comprende ovviamente anche poi la possibilità di essere iscritti ad Amazon Fresh per poi però pagare 15 dollari al mese per avere la consegna gratuita e la carta di credito di Amazon che è Amazon Prime Card di cui vi ne ho parlato se non l'avete visto il video andatelo a vedere è molto interessante è una carta che ti dà il 5% di cashback su tutto quello che acquisti su Amazon.com Whole Food che è la catena di Amazon è Amazon Fresh quindi ovviamente costa di più ma una volta che sei membro Prime e dentro l'ecosistema di Amazon è molto più semplice comprare su Amazon rispetto ad altri siti sia perché hai la carta di credito Amazon quindi hai il cashback che ti arriva indietro sia per i tempi di consegna che come sapete con Prime molte volte ti portano un prodotto anche il giorno dopo quindi è difficile competere con un servizio del genere quindi la domanda che tanti si fanno oggi come posso competere con un Amazon della situazione quando le tempistiche di spedizione dalla Cina sono 30 giorni se tutto va bene o tempistiche anche di 2 settimane, 3 settimane allora considerate una cosa si può avviare a questo problema in due modi il primo è l'e-packet così chiamato che è un sistema di consegna rapido negli Stati Uniti ma anche in altri stati dove si può mandare il prodotto e solitamente arriva tra 10 giorni e 2 settimane quindi già in questo modo si dimezzano i colossali tempi di consegna che diciamo sono la causa e il primo blocco per cui uno inizia a vendere il dropshipping quindi questo è già un problema che si può rimuovere alla radice il secondo è invece verificare quando siamo su Aliexpress qual è il tempo di consegna se spediamo da altri paesi infatti per alcuni prodotti è possibile che il prodotto sia spedito dalla Turchia dalla Cina o dagli Stati Uniti ad esempio quindi in base a dove dobbiamo spedire il prodotto possiamo scegliere che venga spedito da una determinata location quindi dagli Stati Uniti quando si vende negli Stati Uniti è possibile con determinati prodotti spedirli direttamente dagli Stati Uniti anche se qui stiamo su Aliexpress e in questo modo i tempi di consegna si riducono a 5-7 giorni lavorativi quindi già stiamo parlando di numeri interessanti per molti poi il problema è comunque eh vabbè ma se lo stesso prodotto c'è su Amazon che senso ha venderlo anche in dropshipping considerate una cosa considerate che ogni giorno vengono fatti milioni di transazioni e soprattutto per determinati prodotti non abbiamo la necessità uno di andarlo a cercare su Amazon e due l'urgenza che ci venga consegnato il giorno dopo entro due giorni perché ripeto su Amazon facciamo fronte a una domanda espressa in cui ricerchiamo un prodotto mentre in dropshipping quando vendiamo un prodotto che può essere adatto a essere venduto con questa modalità di business andiamo a cercare prodotti che rispondano a una domanda latente o a un acquisto impulsivo che vuol dire che non ci stiamo a pensare troppo se comprarlo o no lo compriamo subito e amen quindi non è che andiamo a fare due miliardi di ricerche prima di comprarlo non sto parlando di un Apple Watch non sto parlando di un iPhone che ovviamente prima di andarla a comprare e comprandolo online ci pensiamo più di una volta non è che vediamo la pubblicità lo compriamo subito o meglio può succedere ma perché già conosciamo il prodotto e abbiamo fiducia nel brand per prodotti e store in dropshipping spesso non facciamo tutti questi ragionamenti è un acquisto ripeto impulsivo che viene fatto in pochi secondi e finisce lì infatti tante persone che comprono in dropshipping si dimenticano anche di aver fatto l'acquisto pensate quindi magari se l'acquisto le arriva dopo due settimane si ricordano di averlo comprato solo quando lo ricevono e questo succede veramente molto spesso e considerate un'altra cosa se operate nel mercato USA quindi Stati Uniti le dinamiche di acquisto sono molto diverse rispetto a quelle italiane o quelle europee innanzitutto per la carta di credito considerate che negli Stati Uniti la carta di credito è il pane quotidiano viene usata letteralmente per qualsiasi cosa i limiti delle carte di credito qui negli Stati Uniti sono molto più alte rispetto all'Italia quindi gli utenti, le persone e i consumatori utilizzano la carta di credito molto più facilmente e senza neanche pensarci questo poi è anche il grande problema degli Stati Uniti e degli americani che molto spesso si indebitano con le carte di credito e ripeto ho fatto tantissimi video anche su la vita negli Stati Uniti e le carte di credito e il sistema delle carte di credito con il credit score, credit history e tutto come funziona troverete una playlist dedicata qui sul canale se volete poi approfondire questo argomento ma è interessante perché anche questo spiega tanto sulla psicologia di acquisto degli americani e appunto per quale motivo gli americani hanno la strisciata più facile come la chiamo perché non ci pensano tante volte prima di comprare perché per loro il massimale della carta di credito è come avere disponibilità di soldi anche se magari non hanno il corrispettivo sul conto corrente quindi è una cosa assurda che per gli europei è veramente assurda ma per gli americani è il pane quotidiano per un americano basato sull'economia del debito è quasi normale essere indebitato perché lo fanno sin da quando iniziano a lavorare pensate a un americano quando finisce l'università ha già un debito sulle spalle importante quindi è già abituato nella sua vita nella sua carriera che sia personale o scolastica o lavorativa ad essere indebitato e avere a che fare con il debito ma considerate che ovviamente il debito usato in un certo modo è anche positivo il debito può aiutare a costruire a creare ricchezza anche nel lungo termine non sono soltanto io a dirlo ma sono parecchi libri però lasciamo stare la parte finanziaria e economica manteniamoci soltanto su quella dell'e-commerce e dropshipping quindi questi argomenti sono abbastanza forti e possono oggi garantire il successo di uno store in dropshipping rispetto magari alla vendita su Amazon che ripeto ha tanti vantaggi ma anche tanti svantaggi che ho di cui ho parlato nel video precedente quindi se oggi volete iniziare con uno store innanzitutto pensate prima oltre al prodotto che è la cosa principale anche i mercati dove volete vendere perché vendere negli Stati Uniti e vendere in Italia e in Europa sono due cose diverse sia dal punto di vista di comunicazione sia dal punto di vista di vendita del prodotto e anche ovviamente di tempistiche e consegne altra cosa veramente importante andate sempre su Aliexpress che è ovviamente la piattaforma più utilizzata per ricercare prodotti le recensioni, le review sono estremamente importanti quindi andate a verificare che le review siano 4.8 o superiori e andate a vedere le recensioni del prodotto quindi accertatevi sempre che ci siano buone recensioni con il manufacturer o con il produttore che sarà poi il vostro supplier quello da cui andrete a comprare la merce e considerate che il rapporto con il supplier è molto importante perché è come se fosse il vostro socio a distanza senza averlo mai visto e conosciuto quindi estremamente importante valutare alcuni parametri prima ancora di iniziare a collaborare insieme quindi recensioni, tempi di risposta cercate di capire se risponde subito cercate di capire se è reattivo quindi se gli scrivete e vi risponde dopo una settimana non va bene perché vuol dire che appena ci sarà un problema con un ordine non sarà reattivo e non risponderà subito e quindi questa è una cosa molto importante quindi al di là del costo del prodotto quando magari vedete che un prodotto ha poche review o brutte review ma costa di meno fa niente soprattutto all'inizio sacrificate il profitto per accertarvi che tutto sia liscio come l'olio quindi di non avere poi problemi successivi che poi vi incasinino da subito l'attività perché è importante avere le basi per creare uno store che sia sostenibile nel tempo se il vostro obiettivo ovviamente non è soltanto quello di fare qualche soldo facile ma che poi vi possa dare dei ritorni anche nel lungo termine quindi poi se volete vendere altri prodotti con lo stesso store non potete tra virgolette rovinare la reputazione del vostro brand che avete creato perché avete avuto un supplier che non si comportava bene fondamentalmente quindi ripeto abbattere le diffidenze dei tempi di consegno oggi è possibile con l'e-packet e con la spedizione da altre country non necessariamente dalla Cina e quindi si riduce drasticamente il tempo di attesa e ripeto finora a me non mi è quasi mai capitato di ricevere mail di reclamo di qualche cliente che sta aspettando il pack e non arriva anche perché solitamente è possibile integrare direttamente una mail una volta effettuato l'acquisto in cui è possibile tracciare l'ordine in maniera autonoma quindi poi non mandano neanche le mail per sapere che fine ha fatto l'ordine perché lo possono verificare in maniera autonoma appunto e quindi tutto questo facilita anche poi il workflow e l'automation quindi considerate che ripeto finora non mi è mai capitato neanche una richiesta di refund su più di 800 ordini processati in poche settimane praticamente e ripeto sul mio account Instagram spesso sto facendo una specie di resoconto di come ho avviato e portato questo store in dropshipping da zero più di 1000 dollari al giorno in praticamente meno di due settimane quindi ho fatto una sezione in evidenza dove parlo di questo nello specifico e altra cosa ho integrato ormai da un po' di tempo una sezione nel masterman che si chiama e-commerce euro che sto ampliando poi con il tempo dove ho integrato nuove lezioni, nuovi video su il modello di business del dropshipping e come partire anche da zero quindi come creare lo store con Shopify come importare i prodotti, come collegarlo o berlo, come partire con gli ordini e cose da verificare ancora prima di iniziare plug-in da utilizzare, tutte queste cose da sapere prima di iniziare nei prossimi video farò dei video più ad hoc dedicati su altri temi magari connessi sempre a questo mondo quindi magari su costi di avvio che non ho già fatto tra l'altro uno su questo argomento ma magari costi realistici di advertising da considerare questo video era più dedicato esclusivamente alla parte di sourcing del prodotto ma farò anche altri video sul sourcing del prodotto come trovare i prodotti, quello fatto tra l'altro anche nel corso però ripeto le tempistiche e la consegna non sono un problema così grande come tante persone pensano perché psicologicamente è vero, può sembrare una grande barriera ma fidatevi che non è così assolutamente soprattutto per certe tipologie di prodotto perché ripeto se abbiamo una richiesta immediata una domanda e stiamo cercando un prodotto perché ne abbiamo la necessità immediata ovviamente Amazon vince perché stiamo cercando un prodotto che ci viene consegnato dopo domani magari abbiamo bisogno domani stesso del prodotto e quindi lo aspettiamo e ci aspettiamo che ci venga consegnato subito quando abbiamo invece un acquisto impulsivo di un prodotto, di una cover, di un libretto, di una penna qualsiasi cosa che non è che ci serve immediatamente siamo disposti ad attendere e aspettare che ci venga consegnato quindi queste sono barriere diciamo all'acquisto che possono essere smantellate in poco tempo perché ripeto non dobbiamo soltanto vendere un prodotto ma dobbiamo anche fare in modo che tutto il flusso sia il più automatizzato possibile perché ovviamente anche con uno store in dropshipping il nostro obiettivo è di toglierci il prima possibile dell'attività e fare in modo di controllare solo un paio di volte al giorno come sta andando per poi delegare magari quello che noi non vogliamo fare e concentrarci su quello che è importante ossia scalare e poi eventualmente controllare le campagne o aprire altri store ok questo era quanto del video di oggi ci vediamo al prossimo video un saluto dal vostro webmate mi raccomando lasciate un like a questo video iscrivetevi al canale se lo avete ancora fatto cliccate sulla campana tra un po' anzi mi sa che attiverò anche gli abbonamenti sul canale quindi è possibile poi con la membership pagando un tot al mese accedere a dei vantaggi esclusivi e tra l'altro se vi va fatemi sapere qui sotto che tipo di vantaggio, che tipo di contenuti premium vorreste avere qui sul canale sotto la modalità di abbonamento quindi pagando un tot al mese fatemi sapere che tipo di contenuti vi piacerebbe vedere qui anche magari live o cose del genere solo per i membri appunto ok ragazzi ripeto questo è quanto ricordatevi anche di seguirmi su Instagram ci vediamo lì e andate a dare un'occhiata anche alle storie in evidenza se volete rimanere aggiornati questo è tutto da oggi ci vediamo al prossimo video